Oggi abbiamo dato inizio alla Borsa Mercato del Lavoro di Firenze, 73 aziende per oltre 600 posti di lavoro. Un incontro importante fra aziende e lavoratori al fine di dare delle risposte concrete al tema dell'occupazione in Toscana sul turismo che è una fetta non indifferente della nostra economia regionale. Questo evento è un'ottima opportunità per cercare sempre nuovi candidati, di vedere cosa offre il mercato e per noi rappresenta un momento di scambio. Ci mette a dura prova anche noi con le nuove realtà, con le generazioni che comunque sono uscite anche da poco dalle scuole superiori. Loro credono di fare il colloquio con noi ma siamo anche noi a fare il colloquio con loro. Studiato nel settore del turismo, sono laureata in lingua e quindi comunque perché non sfruttare questa occasione mi sembra comunque adeguata. La possibilità di parlare vis-à-vis con Turo Peretero parlando 5 minuti a voce, più possibilità. Questa è la prima volta che vengo ad un evento del genere e vi sembra molto pratico. Io sto cercando un impiego nel turismo per quanto riguarda il settore social web. Mi piaceva appunto molto il settore sia delle guide turistiche, quindi anche appunto il contatto con la persona. Mi sto candidando alle varie offerte che ci sono, vedo che ce ne sarà abbastanza e spero che abbia un diretto fine. Di fare più colloqui possibili per farmi conoscere, mettere a disposizione le mie competenze e magari sperare in un prossimo lavoro. Un'occasione del genere ci permette una certa visibilità e anche una certa possibilità di analisi, di curriculum e di colloquio vis-à-vis con le persone, accelera i tempi di valutazione. Questa per noi è una bellissima opportunità perché ci permette comunque di conoscere cosa i ragazzi oggi lo stanno cercando. Vediamo che c'è tanta voglia di fare e tanta voglia, diciamo, di migliorarci. È interessante capire il profilo professionale e personale della persona che si deve vivere in una comunità. È la passione che ci mette nel raccontarsi e da lì riesci a capire la vera passione che mette poi nel suo lavoro. Cerchiamo di mettere a disposizione i posti che derivano dalle aziende nella regione toscana e cercando di mettere in stretta sinergia con i ragazzi, le ragazze e soprattutto anche i meno giovani per poter collocarli nel mondo del lavoro.